Il gioco del dado Perché? Me lo chiedo anch'io Ne ho detto almeno 9 in un dado con 6 facce Quindi c'è un imbroglio già dall'inizio Cosa? In questo momento vorrei una parmigiana di melanzane come oggetto Perché prima di ogni concerto serve Lo dicono un po' tutti gli esperti Insomma il mio poniatra di riferimento me lo dice spesso Prima di ogni concerto un po' di parmigiana Aiuta le corde vocali ad avalgamarsi A creare quella tipica pasta che tanto piace ai miei figli Adesso con un come Come? Noi la facciamo così Con le melanzane fritte prima Poi la salsa a parte diciamo col pomodoro Mozzarella Uno strato leggera diciamo Con poi un po' di uovo sodo Della salsiccia E se vi capita potete metterci un po' quello che vi pare Imposite che sia bella pesante Compatta E molto densa Andiamo avanti con il nostro dado Perché? Perché è molto buona Diciamo ha questo gusto E soprattutto ha delle sostanze abbastanza nutritive Tant'è che è stato calcolato Dall'Associazione Mondiale dei Nutrizionisti Che un centimetro cubo Della parmigiana di melanzane di Brunori Potrebbe sfamare Pensate un po' Almeno due paesi In via di sviluppo Andiamo avanti con quest'altra cosa Perché? Mi ricapita di nuovo perché Ve lo dico perché Perché ricapita il perché Perché evidentemente sto dicendo Fesserie da troppo tempo E anche il dado si ribella Andiamo avanti Con l'ultimo Chi? Dario Brunori Della Brunori Sassi Il vostro cuoco preferito Sappiate che A settembre Mi fermerò Metà settembre Con i concerti Perché inizia la mia rubrica Di cucina leggera Come dimagrire con la tecnica Dell'assalto Questa tecnica prevede che Assalti lo stomaco Con tutti i cibi possibili Creando una saturazione tale Per cui Non riesce neanche più ad ingrassare Lo stomaco Nel corpo Riesce ad assorbire Diciamo Le sostanze nutritive Non so cosa sto dicendo Per cui Non si ingrassa Non avete capito? Neanche io Però sappiate che Pur non comprendendo Ricerete di malire Grazie alla diattiva Non risasse Allora facciamo così Facciamo finta che Si è uscito proprio Guardate È uscito proprio il dove Come potete vedere Dalla faccia Il dove Il dove In qualsiasi cucina Che sia dotata di almeno Una bottiglia Da 5 litri di olio Che deve essere utilizzata Tutta ovviamente Senza lasciarne neanche Un goccio È in presenza di commensali Non cucinate mai solo Per voi stessi Se non ci deve essere Anche un po' di gente Quando Vedete è uscito proprio Quando Con la C Quando Sempre Dovete mangiarla Almeno 6 volte Durante la giornata La mia dieta Prevede di mangiare Non poco e spesso Ma molto E spesso E pesantemente Un saluto a tutti voi E al dato delle magie Ricordate di mai mettere Il dado nella parmigiana Questa è importante È un saluto a tutti voi I'm out with you tonight